eccoci e bentornati sul mio canale nuova breaking news su call of duty infinite warfare come sapete domani 6 luglio arriverà il dlc3 app solution per il titolo dell'infinity world e vi volevo annunciare un importante evento è disponibile il pre download del dlc3 su ps4 avete capito bene possiamo fare il download anticipato così domani avremo già a disposizione il dlc che vi ricordo conterrà quattro mappe multiplayer amber bermuda permafrost e for e la nuova esperienza zombies attack of the radioactive thing come potete vedere dall'immagine è disponibile quindi le pre download del dlc peso 9,8 gigabyte questa è la dimensione ovviamente su ps4 fatemi sapere se siete riusciti a scaricarlo al momento dalle informazioni mio possesso il pre download è disponibile per coloro che hanno fatto l'acquisto singolo del dlc quindi fatemi sapere voi possessori di season pass se riuscite a scaricarlo oppure no e noi ci vediamo con tanti nuovi video